musica 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 Un cacciavite Un trap Una sega Una vici a come Pelle pinze Viti e bulloni Le chiave inglese Un metro Martello Ma ma che ci vuole? 80 kg di ferro E uno specchio Un videoproiettore Dei laser paciensi a bassissimo posto Una webger modificata Un paio di picchiavi per proteggersi dai laser Un computer dell'ultima generazione. So what are you saying? So. 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 so Grazie a tutti. Grazie a tutti.